Volevo provare... proviamo da su a... Perché non sapete che fa? Vabbè proviamo da su a solo per capire se muoio con le nade o no Solo per questo dai Fate quello che volete C'è da capire sta cosa assolutamente Vi dirò la nade Niente non gli piglio i colpi Porco del dio rai Che fai qua sto croccia Riuscite a guardare dal pozzo a sinistra di A Spaccia uno qua sotto Ma che culo di merda Occhio che... bravi Occhio che tirano da sotto a migliore Che mira Oddio se l'ha cioccata Vai bella Un nemico è rimasto Nooo Occhio che tirano da sotto a migliore